Il 20 giugno prossimo a Rimini si terrà l'assemblea di bilancio della BCC Emilia-Romagna. I dati relativi al bilancio 2010 però sono stati presentati alla stampa durante una conferenza tenuta sia a Bologna. Dati di un anno difficile per l'economia e di conseguenza anche per le banche, ma nonostante tutto la BCC reagisce. Quali sono i dati più significativi e quali conclusioni traete da questi? I dati più significativi è certamente che il credito cooperativo Emiliano Armagnolo chiude questo anno difficile con un utile positivo, in calo rispetto agli anni precedenti ma positivo. Abbiamo sostenuto l'economia dei territori attraverso gli impieghi che sono cresciuti del 7,6% e abbiamo certamente lavorato per sostenere tutte quelle richieste di imprese che avevano bisogno di sostegno finanziario per poter rimanere aperte. Questo naturalmente ha portato ad assumere rischi e quindi anche a un aumento delle sofferenze. Siamo vicini al 27% di crescita di sofferenze su base annua e quindi un forte sforzo da questo punto di vista. Abbiamo avuto però la capacità di creare una reddittività tale da poter coprire questi rischi attraverso accantonamenti forti, ben precisi, per mantenere stabilità e stabili le nostre banche. Quindi penso che oggi i numeri importanti siano quelli che il credito cooperativo Emiliano Armagnolo ha continuato a svolgere la missione per cui è stato ed è chiamato a portare avanti. Quindi il sostegno dei territori, quindi delle aziende dei territori, quindi delle comunità dei territori.